La SoundTower XT-108BT di Trevi è un sistema verticale di amplificazione sonora, ideale per l'ascolto da TV, smartphone, tablet e notebook. Con l'altoparlante di Trevi potrai ascoltare tanta buona musica, sia tramite chiavetta USB che via Bluetooth con il tuo dispositivo compatibile. XT-108BT è un sistema audio potente che amplifica l'ascolto della tua musica e dei tuoi film preferiti, facendoti vivere un'esperienza sonora di alta qualità.